Avrà inizio alle 9.50 di martedì 4 novembre la cerimonia della giornata delle forze armate dell'unità d'Italia. Alle 9.50 ci sarà l'afflusso dei reparti militari, delle rappresentanze e delle autorità. Completato lo schieramento saranno resi noti gli onori al gonfalone della provincia, seguiranno l'alzabandiera, la disposizione della corona e i discorsi celebrativi. Nella giornata di ieri, 2 novembre, si è celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti nella chiesa di San Francesco e dopo è stata deposta la corona davanti al monumento dei caduti italiani ed austro-ungarici nel cimitero urbano. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il 2 novembre per noi è un momento importante e questa breve cerimonia che ricorda i caduti nelle guerre ma anche in chi ha dato la sua vita per il nostro paese nei servizi anche più recenti, in Afghanistan, nei paesi così difficili, insomma ci fa trovare insieme, un momento anche emotivo intenso, con le nostre forze armate e con chi le rappresenta e penso che per tutti noi sia un momento per ricordare, ricordare essere vicini a chi ancora oggi rischia la vita per il nostro paese. Quindi è un momento di ricordo, è un momento di vicinanza, è un momento che dobbiamo ripetere ogni anno proprio per dare questo segno di solidarietà e di vicinanza a chi compie in questo modo il dovere in posti così difficili.